Adesso siamo proprio nel picco, abbiamo diverse persone con l'influenza, soprattutto persone anche lavorativamente attive, anche perché gli anziani fortunatamente provvediamo con la vaccinazione e funziona. Sono migliaia gli aretini costretti in questi giorni a letto con l'influenza. Abbiamo infatti toccato il picco del contagio stagionale, complici le temperature rigide, le perturbazioni provenienti dalle regioni polari che hanno portato a neve, gelo e temperatura picco. Il picco influenzale è dovuto principalmente all'arrivo del virus influenzale che poi si combina con un abbassamento che negli ultimi anni è repentino delle temperature, e quindi il fisico non ha il tempo poi di adattarsi a una graduale temperatura bassa. E quindi niente, praticamente il picco dell'arrivo del virus con l'abbassamento delle temperature si combina e provoca l'innalzamento del numero dei casi influenzali. Ci si ammala e in alcuni casi ci sono anche delle complicazioni dovute all'influenza. Sì, le complicazioni sono frequenti in pazienti portatori di patologie croniche, diabetici, bronchitici cronici, asmatici, e quindi soprattutto in questi soggetti è importante la vaccinazione, perché le complicazioni sono fondamentalmente delle vie aeree, quindi polmoniti, ci possono essere delle otiti che sembrano banali, però comportano una problematica abbastanza lunga poi da risolvere. I consigli per chi si trova a letto in questi giorni quali sono? Allora, i consigli sono di intanto evitare di uscire soprattutto nelle ore fredde, di stare a riposo, di bere molti liquidi e di consumare molti alimenti che contengono vitamine, frutta, verdura, una dieta leggera, un antipiretico da banco e di solito in 3-4 giorni si ha la risoluzione dei sintomi, quindi l'abbassamento della febbre. Dopodiché, se questo non avvenisse, è utile consultare il medico che valuterà se è il caso di procedere con una terapia un pochino più specifica.